Allora ragazzi oggi andiamo a fare l'unboxing di questo bel bestione Sì, bestione è proprio il nome adatto Anche perché è mastodontico Pesa la bellezza di 27 kg Quindi attenzione quando arriva E adesso andremo ad unboxare con un professionalissimo coltello Doppio scatolone Allora qui subito, attimo che ho questo coltello che sembra tipo per fare un omicidio Qui subito manuale di istruzioni con QR code vari Io non sono nella pelle Per vedere cosa c'è qui dentro Eccolo Adesso se non siete ben allenati farete fatica a tirarlo fuori Io invece sono allenato Ed eccolo qua Sua maestà Anker Solix Solar Bank 2 Plus Adesso andiamolo a configurare e collegare Come potete vedere all'interno della confezione Hanno messo tutta la cavetteria Diciamo a protezione proprio della batteria Allora come potete vedere all'interno tutto l'occorrente Ci sono le prolunghe Per i vannelli fotovoltaici Poi c'è il cavo che andrà collegato alla corrente di casa Che è bello bello lungo Sono 5 metri Qui ci sono gli agganci con i vari tasselli Se lo volete collegare al muro E questa è la chiave per stringere o aprire i morsetti Adesso non ci resta che spellicolarlo E siamo quasi pronti Andiamo a collegarlo dai Allora adesso andremo a scollegare il nostro vecchio microinverter Che fino adesso ci ha accompagnato e lo ringraziamo Fai buon viaggio Stiamo registrando alle 6.41 di mattina Perché se no il caldo ci avrebbe sciolti vivi Andiamo a scollegarlo Adesso provvisoriamente lo metterò qui in balcone L'Hunkersolix solo per test Poi dopo farò tutti i cablaggi fatti per bene Adesso ho l'apposito utensile Andiamo a sganciare i morsetti Ok e uno è andato Ok microinverter completamente scollegato Ha fatto un buon lavoro Anzi lo consiglio se volete fare un impiantino così iniziale Senza accumulo di energia Però adesso è ora di fare un grosso upgrade al balcone Quindi ti salutiamo Microinverter OIMILES E andiamo a collegare il nostro bestione Il sole sta sorgendo E noi ci andiamo a collegare i nostri pannelli Con le prolunghe E ci portiamo già tutto quanto il cablaggio dentro Così abbiamo metà del lavoro già fatto Poi ci resterà soltanto da collegare dentro Tanto è tutto plug in Ci mettiamo due secondi Sembra un'alba giapponese Tipo dal monte Fuji Quella vostra cazzata Andiamo dentro dai Allora Collegamenti fatti Semplicissimo Io ho la versione plus e non pro Perché ho solo due pannelli Quindi non mi sarebbe servito a nulla avere altre due entrate Io ancora lo devo accendere Però lui già ha rilevato che sta entrando qualcosa Ancora non l'ho connesso lì A la presa di casa Allora adesso vediamo dall'applicazione se lo rileva E cerchiamo di aggiungerlo all'app subito Allora come volevate dimostrare Appena abbiamo collegato L'apparecchio al wifi di casa E' partito l'aggiornamento del firmware Che ha la durata davvero di 1-2 minuti massimo Allora abbiamo messo ad aggiornare il firmware Guardate che bella l'animazione con il led blu Sembra tipo la macchina di quella del telefilm supercar kit Di spettacolo Adesso attendiamo che si aggiorna il firmware E lo mettiamo in moto In moto proprio Allora adesso andremo ad unboxare Il vero e proprio motivo Per cui ho scelto questo sistema Anker Solix Che è questo aggegetto qui Lo smart meter Eccolo qui Che bello da vedere Qua l'antenina wifi Questo ci permetterà La gestione dei carichi in maniera intelligente Nel senso che noi una volta collegato al quadro E abbinato all'applicazione Deciderà lui Come utilizzare il carico che abbiamo in batteria E quanto prendere dalla rete Quindi gestirà lui In base anche alla carica della batteria I carichi della nostra casa Senza sprechi E senza dover stare come altri prodotti Senza dover stare noi a decidere Magari delle fasce orarie Oppure impostare noi quanti watt Dobbiamo andare a immettere dentro casa Ma farà tutto quanto lui in automatico Questa è una Credo che sia la cosa di una comodità incredibile Qui abbiamo In confezione Questa è fatta per la trifase Ma noi ovviamente andremo a utilizzare soltanto questo qui L1 perché a casa abbiamo solo una fase Questi sono i misuratori di fase Che vanno collegati Sempre al nostro quadro elettrico Da un professionista Andrà a leggere i consumi Del nostro contatore Quindi da qui Comunicherà con il nostro smart meter Si interfacceranno Per poter avere la soluzione migliore Di erogazione dentro la nostra casa Io lo andrò ad installare Qui nel mio quadro elettrico Che ho praticamente dentro la sala E quindi mi basterà questa antennina qua Wi-Fi Altrimenti in confezione C'è anche Se magari avete che ne so Il quadro in un piano In un altro piano E avete La batteria su un altro piano ancora C'è l'antenna Che potenzia il segnale Ma anche questa Non l'andremo a collegare Perché non ci serve assolutamente Adesso Bando alle ciance Sta arrivando il professionista Che ci installerà al quadro Il nostro smart meter Poi lo abbineremo Ovviamente All'applicazione E vedremo come va Allora Collegamento ultimato Mi sono dovuto Liberare di questi vecchi Interruttori magnetotermici Che sono Che prendevano la posizione Di due DIN Per fare spazio Al nuovo Ed eccoci qua Un po' snellito Prima era davvero Davvero pieno Adesso c'è un po' più di spazio Lo smart meter È stato collegato Configurato Ed è perfettamente funzionante Come vedete qui Dalle luci Allora Allora Una volta collegato Tutto quanto Alla rete E aggiornato Sono partito Con la configurazione E l'abbinamento Che è una cosa Davvero semplicissima Alla portata Di chiunque Ragazzi È andato È andato tutto Liscio come l'olio Non ho avuto Nessun problema Sia nel configurare Che nell'abbinare I due dispositivi E quindi sono andato A creare Il mio ecosistema Del mio appartamento Selezionando la parte Di intelligenza artificiale Per il carico E per i consumi Qui potete vedere L'applicazione Comunque vi fa vedere Tutte quante Le impostazioni Di casa Vi fa vedere Quanto state prendendo Dai pannelli Quanto state prendendo Dalla rete elettrica E poi sotto Ci sono tutte le statistiche Che adesso ovviamente Stanno a zero Perché è appena stato collegato Questa in dettaglio È la parte Di l'impostazione Dell'autoconsumo Con l'intelligenza artificiale Quindi deciderà Da solo Quanto prendere Dalla batteria O quanto prendere Dalla rete In base alla carica Del vostro dispositivo In totale Autonomia Senza che voi Dovete toccare Nulla Allora Qui si inizia A intravedere qualcosa Ho impostato I costi In bolletta Che ho Dei kilowatt E quindi sotto Da solo Inizierà a fare I propri conteggi Allora Qui Salto temporale Di qualche settimana Ho iniziato A Come vedete A farlo girare Per bene Perché comunque Non ha senso Farvi vedere Come funzionava In una mattinata E quindi sotto Ci sono tutte le statistiche Aggiornate Di qualche settimana Di utilizzo Non ha avuto Nessun problema Questo apparecchio Sotto vi fa vedere Tutti i grafici In tempo reale Di quanto state Producendo Ovviamente c'è La produzione La settimana La produzione Del mese La produzione Dell'anno E tutte le statistiche Vi fa addirittura Vedere Pannello Per pannello Quanto ha prodotto È davvero Davvero Molto Accurato Il mese Il mese Di settembre E questo è Quanto ha prodotto Fino adesso Quindi soltanto Verso la fine Del mese Di agosto E settembre Che c'è stato Un po' Iniziato Un po' Di mal tempo Quindi Ci sono stati Dei giorni Che non sono Stati Molto Produttivi Questi addirittura Ci sono i dati Da quando L'ho inserito Nella mia rete Fa vedere Quanto ho prelevato Dalla rete Quanto si è Scaricata La batteria Il consumo Domestico Della mia Abitazione Davvero Vi potete Sbizzarrire Dietro a queste Statistiche Qui in basso C'è tutto Quanto La fase Di accumulo La fase Che è andata A casa Che dire Io mi sento Di consigliarvelo Se volete fare Se avete un impianto Senza accumulo E volete fare Un piccolo upgrade Al vostro Impianto Da balcone Ovviamente La resa Sarebbe molto Migliore Se avessi avuto Altri due pannelli E soprattutto Se avessi avuto Spazio A disposizione Perché così È il massimo Che posso fare Ragazzi Spero che questo video Vi possa essere stato D'aiuto Se state cercando Una soluzione Per il vostro balcone E vi invito A mettere Like E ad iscrivervi Al canale Vi saluto Ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao